Io ci ho fatto il responsabile di sala alla Fenice e per me è veramente una casa perché poi ci vi dentro non ha le finestre diventa come una sorta tra l'oratorio una famiglia super espansa però nonostante le liti dentro poi succede questo in sala tu hai queste cose qua Cioè allora siamo sempre su Mahler sempre Quinta Sinfonia Ci sono dei momenti di Mahler che sono proprio super ritmati Senti come la spalma E dentro ci mette sto trama della vita Cioè lo vedi è l'uomo che combatte no? Queste trombe hanno qualcosa di incredibile Gli ottoni si chiamano tutti quegli strumenti che luccicano Vabbè lui è il Claudio Abbado che è morto dieci anni fa ma Che è stato Ho girato per andare a sentirlo sotto il direttore